Passiamo ora al gruppo delle bicilindriche con il pilota lamettino Giuseppe Ferraiolo con la sua Fiat 500 mentre Alfredo Narciso fa reggisciare Passiamo ora al gruppo delle bicilindriche . Passiamo ora al gruppo delle bicilindriche con i rilassati Mentre è partito Gianmarco Tosti con il numero 43 con la Renault Pio Ed ora passiamo alle bicilindriche con Ivan Larocca il numero 39 Mancaruso, Alfredo Mancaruso 2.46.55 Mancaruso 2.46 Mancaruso 2.46 Mancaruso 3.46 Mancaruso 2.46 Cominciamo da Gianmarco, che è successo oggi? Di tutto. avevi fatto un tre ruote, scherziamo qualche piccolo intoppo risolto più o meno risolto ci ha fatto arrivare alla fine, è arrivato Gianfranco con il carroattrezze, sempre Gianfranco e Pietro ci hanno permesso di fare sempre come al solito la gara bene, Ivano già mi ha parlato della sua gara, è fiera della lente però un saluto da sempre a loro e ringrazio loro soprattutto perché sono qua con loro bene, tocca a te allora, qualcuno ha fatto le tue veci? oggi è andata bene, oggi è andata bene nel team qualcuno è andata benissimo sono la spalco, oggi sono la spalco sono la spalco, va bene, grazie a tutti e tre saluto a Gianfranco, grazie a Gianfranco guarda che facciamo una holo per Gianfranco, forza Gianfranco, questi ragazzi qua ne stai portando più di uno ragazzi cresce la famiglia cresce la famiglia, Mattei quando ti rivediamo di nuovo su una madre alla prossima, alla prossima spero alla prossima sicuro? nessuno e corro soltando io e tutti a fare la città grazie a tutti, grazie 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 mi ero sottuncito del gruppo A, classe 6.000, primo classificato, costigianatto Grazie.